Una corte d'appello di Mosca ha confermato la condanna a 15 giorni di prigione per Veronica Niculcina, membro del gruppo punk d'opposizione Pussy Riot, che ha partecipato all'eclatante protesta durante la Coppa del Mondo di Calcio, invadendo il campo durante la finale, vestita con un uniforme da poliziotto. Il blitz, che è riuscito a eludere il sistema di sicurezza schierato per la finale, è stato portato a termine da tre donne e un uomo, tutti condannati, per aver gravemente infranto le regole del comportamento degli spettatori, ai quattro sarà interdetta la partecipazione agli eventi sportivi per tre anni.